Si attende la decisione dei giudici sulla richiesta avanzata in tribunale a Cremona di applicare la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in città per un militante del Centro Sociale Cavarna di Cremona, Matteo Arisi. Una richiesta sproporzionata per lo stesso avvocato che segue i centri sociali, Sergio Pezzucchi, perché la misura è applicata nei casi di criminalità organizzata, mentre l'assistito sta affrontando un processo a seguito di arresti legati a disordine in occasione di un presidio di forza nuova nel Modenese. A poca distanza dal tribunale, mentre in aula a porte chiuse si svolge l'udienza, è stato organizzato un presidio per denunciare la misura, una forma di repressione preventiva che rappresenta una nuova risposta verso soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Nel volantino distribuito si spiega che tale misura impone limitazioni della libertà personale che possono variare dal divieto di frequentare luoghi o persone al divieto di uscire da un domicilio ed è applicata a coloro che sono ritenuti svolgere attività contrarie alla morale pubblica con l'obiettivo di isolare la persona. Il ricorso alla sorveglianza speciale sta prendendo sempre più piede. Oggi a Cremona, come già in altre città, è stata applicata contro compagni e compagni di Genova, Torino, Bologna, Saronno e Teramo. La forma di repressione preventiva dei comportamenti sgraditi ha come obiettivo di emarginare chi ne è colpito. Con il presidio gli anarchici hanno denunciato questa pratica e ogni forma di repressione hanno portato solidarietà ai compagni privati della libertà.